Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vediamo la differenza tra le tende d'alta quota di saleva. Nel particolare ho qua la saleva Sierra Leone e dall'altra parte la saleva Light Track. Adesso vediamo le differenze tra queste due tende. Prima di vedere quali sono le differenze tra queste due tende vediamo anche cosa hanno in comune. Hanno in comune i materiali con cui sono realizzate. Per intenderci hanno in comune lo stesso materiale con cui fatto il catino per esempio che in entrambe le tende ha un valore di 5.000 mm di colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità. Stesso principio anche per il telo esterno che anche qua ha 3.000 colonne d'acqua per quanto riguarda l'impermeabilità ma allo stesso modo per esempio è uguale anche l'alluminio con cui è fatta la polleria quindi davvero i materiali di queste tende sono uguali identici. Adesso vediamo che differiscono in altre cose però. La differenza numero uno che vediamo sta nelle dimensioni nel peso. La Light Track è decisamente più piccola per quanto riguarda le dimensioni ed anche più leggera. La Sierra Leone mi assicuro è abbastanza massiccia da portare in giro. A livello di grandezza probabilmente la Sierra Leone è 1,5 volte più grossa. La Light Track arriva a pesare 2,1 kg tenendo solamente l'essenziale. La Sierra Leone 3,2 kg tenendo solo l'essenziale quindi capite che c'è un chilo di differenza quindi già questo può essere un gran spartiacque per decidere quale delle due comprare. La seconda differenza che andiamo a vedere è come costruita la tenda con la paleria. Per intenderci come vedete in questa Light Track la paleria è esterna. L'80% della paleria è soggetta a pioggia, a vento eccetera quindi capite che è molto più facile che vada a deteriorarsi e che la paleria vada ad arrugginirsi. Al contempo però è più semplice andare a montarla. Vi assicuro che questa Light Track col fatto che si va a inserire il finale della paleria all'interno dei binari è molto semplice da montare. Poi grazie a questa paleria questa tenda viene garantita fino a 90 km orari mentre la Sierra Leone vedremo successivamente che è garantita di più. Per quanto riguarda invece la Sierra Leone questa è l'opposto ovvero tutta la parte superiore della paleria è richiusa all'interno dei binari e la parte che resta esterna della paleria è quella che poi va a contatto col terreno. Questo cosa vuol dire che l'80% della paleria è coperta e in questo caso la paleria è meno soggetta agli agenti atmosferici, meno soggetta ad arrugginirsi col tempo e durerà naturalmente di più. Al tempo stesso però vi assicuro che montare la Sierra Leone è abbastanza più rognoso rispetto che montare la Light Track sia per come è costruita che abbiamo molti più pali da andare a mettere sia per il fatto che i binari essendo più lunghi è un pochino più rognoso. Per quanto riguarda invece la resistenza al vento avendo questo tipo di paleria questa tenda resiste di più al vento. Salleva dice che questa resiste fino a 100 km orari quindi in teoria avremo un 10 km orari di differenza ma vi assicuro che avendo questi due pali delle verande che tendono a tenere la tenda molto più tirata sull'esterno in caso di vento che vada contro la parete della nostra tenda questa resta molto più ferma si va a comprimere molto meno. La Light Track tende le pareti tendono a entrare molto quindi a diventare ancora più piccola di quello che è. La Sierra Leone invece grazie a questa sua struttura regge molto meglio il vento e all'interno non si piega. La terza differenza che andiamo a vedere è la porta principale e la veranda. Come potete vedere in questo caso la Light Track ha una porta decisamente generosa sarà un metro di larghezza della porta è davvero molto grossa. Ve la vado ad aprire così poi vediamo dentro anche la veranda. Come potete vedere la parte interna di veranda è veramente risicata. Avremo 15 cm di veranda non di più riporre all'interno qui degli oggetti, dei materiali, degli zaini, degli scarponi vi assicuro è abbastanza difficile. È difficile perché soprattutto se si è in due persone all'interno belle grosse massicce quindi non si riesce a tenere il nostro equipaggiamento all'interno mettere una veranda è abbastanza complicato. Allo stesso modo essendo così piccola se dovesse piovere quindi dovessimo cucinare all'interno della tenda qui non riusciamo a farlo è davvero complicatissimo. Nella Sierra Leone invece innanzitutto troviamo due verande, la seconda la vediamo dopo. Per quanto riguarda poi la porta è più stretta dal punto di vista della larghezza però è più alta quindi bisogna meno infilarsi all'interno della tenda. La andiamo ad aprire anche lei in modo tale che vi faccio vedere la sua veranda in questo caso abbiamo una veranda abbastanza generosa abbiamo un 50 60 cm di veranda qui riusciamo a stivare molto più materiale riusciamo anche a cucinarci nel caso in cui dovesse piovere quindi dovessimo cucinare al riparo è una veranda molto più vivibile cioè qua davvero possiamo riporci tranquillamente zaini scarpe e tutto il resto. La quarta differenza sta nella parte posteriore come vi dicevo questa Sierra Leone ha due verande infatti nella parte posteriore io posso aprire l'altra veranda e qui abbiamo altro spazio abbiamo altri 50 cm di veranda dove possiamo andare a riporre successivamente altri oggetti è molto più comodo da utilizzare in caso sia in due persone perché abbiamo appunto due ingressi due uscite e soprattutto è molto più areata perché pensate immaginarla in climi particolarmente caldi avere due porte poterle tenere aperte circola davvero tanta tanta aria quindi questa tenda si può utilizzare anche in climi particolarmente caldi. nella light track invece la parte posteriore è liscia cioè non c'è nulla non c'è un'altra veranda non c'è nulla questo cosa vuol dire che già abbiamo poco spazio nella parte anteriore per riporre gli oggetti e non abbiamo neanche un'altra veranda dietro dove aggiungere spazio. Avendo poi un solo ingresso capita che se uno deve uscire che magari essendo in una tenda ci si dà un po' fastidio questa è un'altra cosa a considerare ma soprattutto è molto meno areata. Avendo una sola porta tenendo aperta solo quella singola porta capite che c'è meno ricircolo d'aria quindi questa tenda qua non è ideale per essere utilizzata per esempio in climi abbastanza caldi. La quinta differenza che forse anche la più importante è la vivibilità interna della tenda. La light track è una tenda abbastanza piccola per intenderci io in questo momento sto toccando con la testa la parte superiore della tenda nonostante non abbia nemmeno dei materassini che mi alzano dal terreno quindi capite che già qui abbiamo un po' un problema d'altezza. Anche per quanto riguarda le pareti sono molto molto vicine in generale questa tenda è veramente piccola all'interno ci stanno due materassini perché comunque è larga un metro e venti quindi i materassini classici ci stanno però la vivibilità è di una tenda molto piccola molto intima è una tenda in cui se siete due persone grosse anche proprio di distanza molto grossa ci starete abbastanza a fatica è sicuramente una tenda dove gli spazi sono risicati anche per ridurne il peso. La Sierra Leone invece è decisamente più spaziosa già potete vedere non picchio con la testa sarà almeno un 15 centimetri più alta proprio di come altezza all'interno della tenda è molto più ampia anche per quanto riguarda la larghezza infatti come vedete le pareti sono molto più distanti ma in generale è molto più vivibile vi assicuro che lo spazio all'interno in questa Sierra Leone è decisamente maggiore. Due materassini naturalmente ci stanno però abbiamo anche maggior spazio cioè oltre due materassini possiamo mettere anche qualcos'altro lateralmente in generale comunque è una tenda molto più vivibile è una tenda che ha dentro molto più spazio ci si muove meglio non ci si scontra se si è dentro in due anche se si è due persone molto grosse di stazza qua ci si sta abbastanza bene è molto più vivibile come tenda cioè la Lightrek è veramente molto più stretta questa invece anche pensando magari di utilizzarla come una casa temporanea passatemi il termine è decisamente più sfruttabile. Inoltre nella Sierra Leone troviamo anche delle tasche all'interno dove andare a riporre i nostri oggetti cosa che nella Lightrek non ne troviamo neanche una. Quindi anche qua capite la Sierra Leone è un pochino più organizzata. Arriviamo dunque a capire dove ha più senso utilizzare queste due tende perché come avete visto ci sono delle differenze abbastanza importanti e a mio parere sono dei grossi spartiacque per capire da usare o la Lightrek o la Sierra Leone. Partiamo dalla Lightrek. La Lightrek visto che è più piccola e più leggera io la consiglio per delle alte vie dei trekking del backpacking comunque per intenderci in caso in cui dovessimo trasportarla per tante ore quindi da tenere nello zaino così che sia piccola e sia leggera e poi nel caso in cui dovessimo fare il pivacco notturno ovvero arriviamo alla sera piantiamo la tenda ci mangiamo la cena al mattino svegli si prende si fa sulla tenda e si va via. Quel caso lì veramente la Lightrek dà il meglio di sé perché non abbiamo bisogno magari tanto spazio interno non abbiamo bisogno di avere delle tende particolarmente strutturate quindi lì la Lightrek davvero si dimostra un'ottima tenda. Al compenso la Sierra Leone non ve la consiglio per fare del backpacking perché è grossa da trasportare è molto pesante quindi questa io ve la consiglio per quelle attività in cui la tenda dobbiamo trasportarla poco per intenderci può andar bene per fare un campo base quindi magari noi partiamo sì ci facciamo qualche ora per arrivare al campo base però arrivati al campo base la lasciamo lì e poi da lì ci muoviamo a fare le varie ascese quindi la tenda resta ferma per giorni in quel caso lì poi magari avendo anche tanta attrezzatura abbiamo anche varie possibilità dove stivarla nelle varie verande. Allo stesso modo la Sierra Leone ve la consiglio anche magari per viaggi mi viene in mente magari dovete fare qualche giro in Africa nel deserto oppure magari nelle foreste eccetera quindi magari la tenda ce la si fa portare però vogliamo una tenda molto areata una tenda dove la notte non soffriamo il caldo che la Sierra Leone sicuramente è più adatta. Diciamo che le differenze sono più queste se dovete decidere quale delle due comprare lo spartiacque a mio parere è quanto la volete areata più areata la Sierra Leone meno areata la light track quanto spazio avete bisogno per stivare le vostre oggetti tanto spazio la Sierra Leone poco spazio la light track dovete trasportarla tanto all'interno dello zaino sulle vostre spalle sì allora meglio andare sulla light track perché è più piccola e più leggera e volendo c'è anche la versione pro che è ancora più leggera anche se costa di più dovete trasportarla meno o volete farvela trasportare da qualcun altro andate sulla Sierra Leone. Dato ciò arriviamo alle conclusioni per quanto riguarda i prezzi sono abbastanza vicine per intenderci 220 all'incirca la light track 250 all'incirca la Sierra Leone i prezzi sono giusti ci sta che la Sierra Leone costi di più perché comunque ha della paleria in più ha del tessuto in più quindi ci può stare per il resto io ve le consiglio perché comunque sul canale trovate le recensioni di entrambe come potete vedere a me sono piaciute entrambe. Dato ciò ragazzi la speranza sia stato esaurante ed esaustivo anche per questo confronto vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao